Tu Mamma è arrabbiata con me Continua a camminare Sembra una specie di iniziazione a una confraternita E di questo che si tratta? Riceverò il mio costume di pelle e imparerò la stretta di mano segreta dai sussurratori? Guarda avanti Ok, non vuoi parlare Mi sta bene, allora non parleremo Sono abbastanza maturo da ammetterlo Ecco io, mi mettono parecchio in imbarazzo questi lunghi silenzi Fermati Ho detto Guarda avanti Merda Togliti i vestiti Sai, avevi... avevi ragione Siamo diversi Mi sono dovuto trasformare in un mostro Perché era di quello che il mondo aveva bisogno Ho costruito qualcosa Ho salvato delle persone Il mio nome aveva un valore Girati Sei un uomo rozzo Ho pensato che avresti apprezzato una ricompensa rozza Ricompensa Ricompensa Per cosa? La spia Gamma Sei stato coraggioso a fare quello che hai fatto E io esprimerò la mia gratitudine In un modo che tu possa capire E tu hai intenzione di... Di farlo con quella maschera? La mia vera pelle ti disturba Niente affatto Stranamente il contrario No Aspetta Voglio sperare che non farai come l'amantide religiosa Mi taglierai la testa non appena avremo finito Sì, scusa Non posso fare a meno di notare che non hai risposto di no Sai una cosa? È passato molto tempo Credo che correrò eventuali rischi Adesso basta chiacchiere